Siamo qui oggi con questo gallo che mi ha rotto il cazzo ora proveremo prenderlo ce lo mangiamo vivo perché per fare bicipite serve tanto petto di pollo venite amici corriamo corriamo queste galline vieni qua gallina vieni con me prendiamo galline vieni qua che devo mangiare il petto di pollo petto di pollo ho preso la gallina queste galline dove vai adesso vieni 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 abbiamo chiuso nell'angolo queste galline adesso sei mia sei mia a brutta troia è scappata abbiamo perso abbiamo fatto molta fatica facciamo così e ora mi saluto perché devo fare il rifornimento di proteina liquida per mio petto potente